Il cuore di tutta questa piccola rivoluzione della viabilità è nella realizzazione di una nuova grande piazza fruibile a tutta la cittadinanza e i tanti turisti che abbiamo nella nostra città, appunto in Piazza Malatesta, dove andremo a realizzare il Museo Internazionale Federico Fellini con installazioni artistiche, con grandi aree verdi, quindi diventerà una piazza a tutti gli effetti fruibile a grandi bambini tra il Teatro Galli e il Castel Sismondo, un luogo penso unico che potrà essere valorizzato al meglio con questo intervento di riqualificazione. I lavori partiranno per stralci, avanzeranno per stralci ma partiranno a fine ottobre con la chiusura di Via Verdi per poi arrivare a primavera all'inizio dei lavori veri e propri su Piazza Malatesta che indicativamente per fine anno 2020 vedranno la loro conclusione. L'obiettivo di pedonalizzare il ponte di Tiberio penso sia proprio di qualsiasi amministratore che governi la città di Rimini. Quel ponte è meraviglioso, penso che in termini di viabilità abbia già dato, dobbiamo arrivare appunto alla sua pedonalizzazione e si sta lavorando per progettare un ponte alternativo che garantisca lo spostamento della viabilità che oggi è transita sul ponte di Tiberio più a monte rispetto alla città. È un obiettivo perseguibile, c'è appunto la progettazione già in fase avanzata, le risorse sono state individuate e quindi possiamo realizzare questo ponte alternativo, ma già procedere con la nuova riorganizzazione della viabilità e l'inversione del senso di marcia sui bastioni settentrionali possiamo già pensare di sperimentare la sua pedonalizzazione in occasioni particolari. Quindi pensiamo che con la nuova viabilità questo possa tenere. L'idea è di realizzare un ponte, io dico in affiancamento, ma più o meno nella zona dell'attuale ponte presso l'Obi della Statale 16 e pensiamo che un ponte realizzato più o meno in quell'area possa garantire un attraversamento della città da nord a sud e viceversa, appunto spostando i flussi di traffico dal centro più a monte. Grazie.